Gentili telespettatori, buona giornata. Quello che vi andrò a raccontare ha dell'incredibile. Vi ricordate Soumaoro, dove tutta la sua famiglia è poi finita nei guai per la gestione di cooperative, le peggiori cooperative d'Italia, dove ne hanno combinate di tutti i colori. La moglie, la mamma della moglie, i fratelli. Ne hanno combinati veramente di tutti i colori. Posti inadeguati, igienicamente non funzionanti, senza luce, gas, acqua, non pagavano i dipendenti, evasione fiscale. Insomma, di tutto. Credo che tutti ricordino il caso Soumaoro, dove questo deputato poi non è stato, indagato, ma ovviamente lui non poteva non sapere quello che succedeva in casa sua. Andava in tutta Italia a trovare, a scovare i migranti sfruttati nelle cooperative, quando le peggiori cooperative erano proprio a casa sua. Capirete un po' che moralmente è assolutamente inaccettabile. Avrebbe dovuto non dare le dimissioni, andare dai verdi, andare nel gruppo misto e star lì altri cinque anni alle spese dei contribuenti. Avrebbe dovuto sparire all'istante dalla politica. Ma quando ci sono i soldi la gente non guarda in faccia a nessuno. Così dopo lo scandalo delle cooperative, lui chiede una commissione di inchiesta. Come? Lui è intelligente. Lui sa che gli italiani, la gente, dopo un po' dimenticano. Passa un mese, passa due mesi, la gente non si ricorda più neanche chi era e cosa ha fatto. Quindi lui, come tanti altri che dovrebbero sparire dalla politica, come quelli che hanno rubato, che sono in politica, i condannati che sono in politica, quelli che si sono fatti rimborsare con le tasse degli italiani svaroschi, borse. Insomma, ce ne sono tanti, eh? Ma tanti condannati pregiudicati in politica. Tanti. Questo Abu Bakr-Somaoro non è un pregiudicato, ma come vi dicevo prima, moralmente dovrebbe sparire dalla politica. Così, quel Abu Bakr-Somaoro che ha fatto scandalo proprio sui migranti, chiede una commissione parlamentare di inchiesta sul tema dell'accoglienza di chi arriva in Italia. Eh sì, non è uno scherzo. Lui, proprio lui. Chiede più trasparenza. Proprio lui. Chiede più trasparenza. Che coraggio, eh? Che pelo sullo stomaco. Beh. E lui non si sottrae alle spiegazioni. Dice, ho depositato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei cittadini provvedienti da paesi terzi, richiedenti asilo e, barra o, titolari di protezioni internazionali. L'ho fatto in questa giornata per mettere ancora una volta al centro il valore della vita umana. Caspiterina. Soprattutto quelle vite che la fortezza Europa ritiene sacrificabili in nome della protezione delle frontiere e dell'inesistente razza superiore. Nessuno ha mai parlato di razza superiore e nessuno sta mettendo frontiere galleggianti nel mare. Propriamente, anzi, arriva chiunque. Quindi, tutto sto teatro che sta facendo mi sembra un po' grottesco, se mi permettete il termine. E poi aggiunge, ricordando che se approvata la commissione di inchiesta, svolgerà ricerche e indagini sul sistema di accoglienza su tutto il territorio italiano, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 82 della Costituzione, al fine di comprendere con rigore e metodologico eventuali criticità e di indicare possibili miglioramenti. Beh, visto che la sinistra ha governato dieci anni, vuoi trovare delle responsabilità a sinistra? Divertiti, però, moralmente, questa persona è improponibile. Improponibile. Nel mirino le leggi approvate nel nostro paese negli ultimi anni, come ad esempio la legge Minniti e i vari decreti sicurezza. Eccolo lì con i decreti sicurezza, che non ci sono più poi. I decreti sicurezza, in realtà ci sono. Li hanno cambiato nome, li hanno svuotati, ma in realtà non sono più i decreti sicurezza di Salvini. Sono tutt'altro, proprio completamente un'altra cosa. Quindi fare una commissione d'inchiesta su decreti sicurezza, firmati dal capo dello Stato, legittimamente costituzionali, è una tavanata pazzesca, no? E poi la sua conclusione. Essere costretti a scappare verso l'ignoto, lasciando la propria terra e i propri affetti. È un dramma che segna per sempre la vita di un rifugiato. Non chiamiamo tutti quelli che arrivano in Italia rifugiati, perché quelli che poi hanno lo status di un rifugiato sono l'1 o il 2%, il 98% arrivano perché vogliono arrivare. Non sono rifugiati. Ecco, pertanto, utilizziamo anche i termini in maniera corretta, perché non si può dire rifugiati a tutti quelli che arrivano in Italia senza documenti. Rifugiati è uno status che si ottiene dopo delle verifiche meticolose, dovrebbe essere così. e chi fugge da persecuzioni, eccetera, eccetera, deve essere tutelato e assistito da un sistema solido e deficiente. Questo però vale anche per la sua famiglia? Eh? Abu Bakr, senza vergogna, eh? Che vergogna, mamma mia, mamma mia. Proprio quelli che erano accolti nelle loro cooperative, accolti, insomma, accolti nelle loro cooperative, non venivano pagati, dovevano vivere anche in condizioni igieniche, a dir poco, pessime. Si è dimenticato? Beh, ma la Lega non si è dimenticata con Stefano Candiani. E risponde parlando di un modello, quello di Somma Oro, semplicemente, con una parola sola, vergognoso. Ma lui è un senza vergogna. Lui è semplicemente un senza vergogna. Com'è che è arrivato lì? Insomma, quando arrivi ad avere un seggio in Parlamento, vuol dire che ti sei fatto strada, ti sei fatto largo, vuol dire che sei passato davanti a tanti altri. Ecco, quindi, chi è in Parlamento non è uno sprovveduto, eh? È una che ne sa più degli altri. Eh sì, eh sì, eh sì. E questi personaggi fanno finta come se non fosse successo mai niente. Per lui, quello che è successo alla sua famiglia è inesistente. Lui gioca col fatto che poi la gente, dopo due settimane, non si ricorda più. Grazie a tutti e arrivederci a presto.